Lo so, a volte si ha paura di non farcela, a volte ci si mette in discussione, a volte si ha paura di non essere all'altezza e a volte ti verrebbe voglia di mollare perché è la cosa più facile in quel momento e ti toglieresti da ogni responsabilità, da ogni paura, da ogni preoccupazione e sarebbe sicuramente la scelta più facile, la via più facile. Ma quando vivi questi momenti ricordati soltanto che è perché sei un essere umano e la paura fa parte di chi noi siamo. Ma fermati a un certo punto, tira un respiro profondo e dì ok, io però ho le capacità, io ho valore, io posso farlo, io ho tutte le risorse necessarie per poter generare i risultati che desidero, anche se non sarà facile e se non sarà facile mi impegnerò e farò tutto ciò che è necessario per ottenere quel risultato senza mollare come ho già fatto in passato. Grazie a tutti.